Il primo luglio è la data prefissata dall'amministrazione comunale agropolese guidata dal sindaco Adamo Coppola per consegnare alla città la sede definitiva dei vigili del fuoco situata in località Mattine. Lo stabilimento, concesso e incomodato d'uso gratuito dalla regione Campania al comune agropolese, vedrà lo svolgimento di lavori che completeranno la struttura per rendere possibile il lavoro di prevenzione e sicurezza per tutto l'anno e non solo nei tre mesi estivi, che restano comunque il periodo in cui è maggiormente necessaria la presenza dei vigili del fuoco sul territorio. Il progetto esecutivo del completamento del presidio prevede un importo totale di 44.500 euro, di cui oltre 35.000 destinati alla realizzazione di essi. Agropoli continua il suo percorso verso un grande livello di sicurezza in città, che ora con la presenza a 365 giorni all'anno dei vigili del fuoco e l'imminente commissariato di polizia sembra potersi consolidare sempre di più.